Benvenuti a Maranello Chi mi ha preceduto credo che abbia illustrato molto bene tutte le caratteristiche di questa macchina Io vi voglio dire che è una macchina eccezionale È una macchina che riesce a mettere insieme una straordinaria emozione di guida Delle prestazioni formidabili Un forte conforto dovuto anche al tetto rigido Ma soprattutto è una macchina stupenda Voglio ringraziare qui come sempre per la collaborazione Pininfarina È una macchina che ha una grande personalità Ed è una macchina come ha sottolineato molto bene l'ingegner Felisa e anche Galliera Diversa dal Coupé Questo è un sogno Una macchina che quando la guiderete ti dà una grande emozione Ma è una macchina che ti permette un utilizzo in tante condizioni grazie a questa Coupé Ma in questa vettura c'è tutto lo spirito della vera Ferrari L'artigianalità, l'attenzione al dettaglio, l'attenzione a tanti elementi che caratterizzano sempre di più le nostre macchine Io ho il massimo rispetto per tanti nostri concorrenti Ma c'è una differenza Dentro a queste vetture c'è una tecnologia particolare Non ci sono dei freddi frigoriferi perfetti senza emozione Qui c'è una tecnologia calda, non è solo il colore C'è passione, c'è determinazione, c'è creatività C'è un continuo trasferimento di tecnologia dalle esperienze di Formula 1 Ma c'è soprattutto una storia, una tradizione Che nessun'altra azienda automobilistica al mondo può avere come la Ferrari Questa macchina su cui Felisa ha giustamente parlato di estetica di prestazioni Io aggiungo due concetti C'è un misto tra tecnologia estrema Peso, alluminio, motore, cambio, capote, unici al mondo E l'edonismo, cioè il piacere di guida, l'emozione di guida La piacevolezza di una macchina che puoi guidare anche ad altissima velocità Con una capote e con un vetro dietro automatico Allora dentro a questa macchina c'è l'essenza un po' della nostra azienda Della nostra storia, del nostro Ferrari Quindi abbiamo cercato in pratica in questa macchina Di mettere tutto quello che noi sappiamo fare Non solo sotto l'aspetto prettamente tecnologico Non solo nell'estetica e nella bellezza Perché non ci dimentichiamo che tutte le Ferrari Devono essere come delle belle donne che appena uno le vede rimane colpito Ma abbiamo messo qui dentro essenza, passione, artiginalità Dettagli, dalle cuciture, alle nuove tipo di pelle Alla possibilità di mettere dentro una macchina così piccola Una bella sacca da golf o due sacche per passare un weekend Grazie a tutti voi e forza Ferrari, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti